buonasera a tutti amici leggo da roniston che l'artista cantante mara sattei si presenterà a sanremo con un brano scritto niente meno che da damiano dei maneskin e prodotto dal fratello di mar sattei da sap si scrive di t h a s u p un artista produttore trap da quello che ho capito e da quello che ho ascoltato quindi la notizia è duplice due notizie abbiamo che questa cantante si esibirà a sanremo con una canzone scritta da damiano e prodotta dal suo fratello e la seconda notizia è che damiano dei maneskin ha iniziato a scrivere almeno io questa non la sapevo perché è la prima che mi sovviene ha iniziato a scrivere testi per altri cantanti per altri cantatori per altri non cantatori per altri performer interpreti e sarà questa sarà una cosa molto dura da mandare giù per chi dice che i maneskin e damiano ha e hanno bisogno di altre persone per scrivere i propri pezzi questa sarà una cosa molto dura da accettare per chi accusa i maneskin di non saper scrivere da soli i propri pezzi perché se damiano scrive un pezzo per gli altri allora vuol dire che qua siamo su un altro livello qui siamo effettivamente su un altro livello io mi stupivo tantissimo quando sentivo che ne so forse era irene randi che cantava un pezzo scritto da vasco rossi oppure altri personaggi forse anche bianconi di eba uschelle ha scritto qualche testo per altre persone io mi sono veramente stupito di questi artisti che riescono in qualche modo a ottenere la possibilità di scrivere per altri cantanti e quindi non so dietro le quinte come è andato effettivamente ma rassattei ha dichiarato nella intervista che in base a quello che aveva cantato e scritto il prodotto damiano dei maneskin l'ha contattata per produrre un nuovo pezzo e affiancata dal produttore da sap che comunque se non andate a sentire le cose che produce lui cantate da mara sattei sono eccelse nel senso che in un certo senso la produzione è ottima è eccelsa perché ci sono delle canzoni col piano forte con delle drum trap che sono sono ottime per quanto anche se uno non può piacere anche se a uno non può piacere il genere si sente che sono di pregiata fattura e il fatto è che questo genere viene affiancato a un pop cantuttoriale un pop come quello di molto elegante come quello di mara sattei e quindi praticamente eleva la trap a genere settoriale dialettale daghetto a un genere più mainstream e quello che succede comunque in tanti altri generi e quindi questa cosa qua a me interessa nel senso che io andrò a sentirmi come si comporterà a Sara Mara Sattei o Sara Mattei perché lei ha un anagramma Mara Sattei come si comporterà con questa canzone scritta da Damiano se non altro mi leggerò il testo che credo che si chiama duemila minuti o una cosa del genere una canzone sull'amore tossico e sarà interessante sentire come sarà questo pezzo qui perché appunto Damiano adesso davanti a lui non ha solo la carriera come cantante di Mandeskin ma anche un'attività se magari non si potrà parlare di carriera ma anche un'attività come autore per altri cantanti e vi dico che questa è una grande grande cosa è una grandissima cosa perché le collaborazioni fanno vivere l'artista in tanti aspetti musicali per non parlare dell'aspetto monetario perché lui firma il brano firma la produzione firma e poi insomma firma il brano cioè è una cosa firma il brano per un'altra cantante insomma è una cosa non da poco non è che tutti i giorni tutti vengono chiamati per scrivere le cose e quindi se Damiano ha voluto produrre lei è anche vero che anche lei si è fidata di Damiano quindi ripeto è una cosa molto dura da mandare giù per i detrattori dei Mandeskin comunque dovevo aspettarmelo da personaggi del genere cioè se ci sono i Mandeskin che collaborano con Tom Morello Thomas si confronta con uno come Tom Morello i Mandeskin si sono già confrontati con uno come Iggy Pop e adesso Damiano può scrivere canzoni anche per altri artisti cioè effettivamente mi sono stupito ma trovo logica questa cosa qui e devo dire molto molto bene massimo massimo rispetto perché ripeto scrivere le cose anche per gli altri è anche una grande responsabilità comunque perché tu firmi la cosa ma poi la cosa deve anche avere un certo riscontro è inutile dire che tu sei il padre eterno se poi scrivi le cose ma non danno un riscontro per cui c'è anche quello da dire io mi ricordo che il brano cantato da Irene Grandi scritto da Vasco Rossi era una hit da paura quindi quella cosa lì cioè non è finita lì nel senso c'è stato una buona eco quindi è una grande responsabilità anche quella perché perché dopo se cominci fai giusto un pezzo ma poi ne sbagli uno ne sbagli un altro ne sbagli un altro non è che puoi continuare cioè nel senso la gente ci pensa un attimo prima di pensare a te bene cari amici questo è il punto della situazione nel bene e nel male ciao a tutti amici grazie a tutti